Vi mostro un altro caso risolto, denti fissi con sistema bocca bionica, un sorriso completamente compromesso, mancava mezza bocca distrutta dalla parodontite, denti incapsulati, un morso inverso, denti incisivi inferiori andavano proiettati verso avanti e la masticazione completamente assente. Questo era uno stadio terminale di piorrea che è stato risolto con la chirurgia, questa era la situazione di partenza, abbiamo testato dei denti provvisori per vedere come avremmo potuto simulare l'occlusione, questa è la chirurgia che abbiamo eseguito, sei impianti nell'arcata superiore, altri sei in quella inferiore. Questo grafico ti mostra in maniera semplice come è la sistematica a implantare, i denti provvisori che vengono avvitati sopra gli impianti con le viti, dare il tempo così di guarire i tessuti, abbiamo eseguito poi una simulazione di quello che era il sorriso che avremmo voluto ottenere, una volta avuta l'approvazione del paziente abbiamo creato delle stampe di mock-up, dei test che servono in plastica a verificare come potrebbero essere i denti. Successivamente abbiamo creato le arcate definitive, in questo caso due arcate superior, la linea più avanzata al mondo, denti che sono replica di denti reali, denti perfetti che vengono scansionati e riprodotti roboticamente. Una volta avvitati in bocca, questo è il risultato, dei denti iperrealistici con anche la simulazione cingipale, di modo da conferire quell'aspetto naturale al sorriso, delineare le forme dei singoli denti, nota come la luce colpisce le linee d'angolo dei denti e danno quell'aspetto naturale al sorriso. Questa è la linea superior vista da vicino, denti perfetti in zirconio, e questo è il primo e dopo del paziente, nota come si è cambiato il viso. Sono la stessa persona, prima appariva un viso malato, ora abbiamo un viso luminoso, sano, un sorriso vitale che permette di esprimere il massimo dell'energia a questo viso.